e quindi regolare il processo di lavorazione del tabacco e normalmente significa che il gusto è anche pulito perché quando la cenere è grigiastra o carboniosa quindi significa che la combustione non è stata completa e di conseguenza anche il gusto del fumo è un po' difettoso Altra domanda che era venuta fuori, che avevamo discusso quando ti trovi di fronte alla formazione della faccia esterna di pallini bianchi? Nessun problema, sono solo delle... diciamo è una caratteristica della foglia del tabacco quindi se sono puntini bianchi, sono solo cellule del tabacco che hanno bruciato nel modo corretto nessun problema, è naturale anzi e sì di qualità vero? Sì sì sì, di grana aperta quando dicevo prima perché quella è... perché era... com'è che si chiama?